Si aggiorna il piano di prevenzione della corruzione 2018-2020. Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, insieme al segretario comunale Eugenio Alessi, nella qualità di responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione del comune, rende noto che il piano è in pubblicazione sul portale comunale www.comune.bagheria.pa.it e all'albopretorio online per tutti i soggetti interessati, ossia cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio. Tutte le indicazioni, le proposte, i suggerimenti e le osservazioni in ordine ai contenuti del piano triennale della prevenzione alla corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018-2020 dovranno pervenire entro mercoledì 24 gennaio. Il modulo predisposto per l'invio è reperibile sul portale comunale nella sezione Amministrazione, Trasparente, Anticorruzione e nell'articolo in home page del sito. Le proposte e le osservazioni pervenute saranno poi valutate ai fini dell'aggiornamento del piano. L'amministrazione comunale, al fine di coinvolgere al massimo tutti i soggetti interessati, ha anche intenzione di organizzare, sempre per mercoledì 24 gennaio, in aula consigliare, a partire dalle 9.30, un convegno dal titolo Piano di Prevenzione della Corruzione, non solo un adempimento ma un servizio di informazione e trasparenza a favore del cittadino. Il Comune di Bagheria intende disegnare un'efficace strategia anticorruzione e realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, sottolinea il Sindaco, in occasione dell'aggiornamento del proprio piano e in risposta a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il convegno, che coinvolgerà gli ordini e le associazioni di categoria, servirà anche a condividere idee e fare trasparenza, non solo adempimenti dunque da ottemperare, ma anche azioni da portare a termine e risultati da conseguire per offrire sempre più servizi ai cittadini in completa trasparenza. Grazie. Grazie. Grazie.